Salve a tutti e ben ritrovati a Chiasso News. Nonostante il periodo buio, al Terzanum Comacini di Chiasso continuano le attività ludiche di intrattenimento al balcone. Infatti lo scorso martedì 7 aprile si è svolta una divertentissima tombolata a distanza sociale, con le animatrici che dal piazzale del bistrò estraevano i numeri della tombola. Chiasso TV continua con le dirette streaming delle sante messe domenicali e delle funzioni religiose a porte chiuse, dalla chiesa di San Vitale Martire a Chiasso. A partire da questa sera alle 17 con la messa in cena domini, continueremo la liturgia della settimana santa. Domani, venerdì 10 aprile alle ore 17, liturgia della Passione con la Via Crucis. Sabato 11 aprile alle ore 20, celebrazione della Veglia Pasquale e Santa Messa. E domenica 12 aprile alle ore 10 e 30, celebrazione della Santa Messa della Domenica di Pasqua. Una novità per gli amanti della musica sacra sabato e domenica, mezz'ora prima delle funzioni, trasmetteremo due video musicali con le due messe pontificali più celebri del compositore Don Lorenzo Perosi. Continua con un ottimo indice di gradimento il servizio a domicilio effettuato da molti commerci di alimentari. Mandiamo il video con l'elenco di chi si è annunciato alla nostra redazione. Iscriviti al canale Anche molti ristoratori e take away si sono annunciati alla nostra redazione, essendosi attivati con il servizio a domicilio per non farci rinunciare ai piaceri delle specialità gastronomiche o anche al piacere di una classica pizza fumante. Mandiamo il video con i loro contatti. Anche molti ristoratori. Anche molti ristoratori. Ricordandovi che sul nostro canale continua anche la trasmissione musicale Unureta in compagnia dedicata agli anziani ma anche agli amanti della musica vintage auguriamo a tutti voi carissimi spettatori una serena Pasqua in attesa di tempi migliori. A ben rivederci alla prossima edizione. A ben rivederci alla prossima edizione. A ben rivederci alla prossima edizione. A ben rivederci alla prossima. Grazie a tutti